ciao benvenuti in un nuovo video di gay e ginnastica artistica inizieremo con delle spaccate e poi inizieremo con ruote verticali però non le posso fare perchè mi fa male perchè è troppo piccola la mia cameretta e non posso partire in salone perchè il mio padre sta vedendo la partita allora iniziamo con la spaccata ma come la volete frontale o frontale o laterale scrivetelo qui sotto scriverò adesso qui sotto e mettete un like spaccata laterale e spaccata spaccata laterale e spaccata frontale adesso iniziamo con quella spaccata frontale allora mettiamo in mano innanzitutto dobbiamo stare così e ci dobbiamo andare poi ci mettiamo in questo modo mettiamo su e così guardate come stanno le mie gambe punti tese sicuramente e mai senza punti tese perchè se fate ginnastica artistica la vostra allenatrice vi scriverà allora iniziamo allora iniziamo braccio su così così e poi adesso facciamo la spaccata laterale facciamo la spaccata laterale facciamo così non è vero allora adesso iniziamo con questo guardate iniziamo con la verticale allora non è vero allora non è vero non è vero l'appoggio qua non è vero troppo a sosta devo mettere qua ok ok adesso iniziamo ricordate sempre allora iniziamo facciamo un po' di esercizi e poi non è vero ok 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 e punti tese e iniziamo come potete vedere appena fatta rifacciatelo vedere al rallentatore così e adesso e adesso faremo la ruota sempre punti tese e braccio tese all'inizio e facciamo così e facciamo così aspettate aspettate questo bizzertino iniziamo 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 aspettate aspettate guardate 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 aspettate iniziamo iniziamo con il ponte e iniziamo con il ponte iniziamo iniziamo ok ok è finito è finito qua ciao e aspettate ciao iniziamo